eccoci qua a portofino è un comune con circa 350 abitanti e il territorio comunale è situato nella parte occidentale del golfo del tiguglio in una baia ai piedi del omonimo promontorio 610 metri a destra di genova segnando di fatto il confine geografico tra il golfo paradiso e il tiguglio l'intero territorio comunale è compreso nel parco naturale regione di portofino e nell'area naturale marina protetta di portofino il modo migliore per apprezzare le meraviglie del parco è quello di percorrere in sicurezza i suoi sentieri più caratteristici affascinanti tutti adeguatamente segnalati attraversando poi la fitta rete di circa 60 chilometri è possibile anche scoprire le ricchezze le varietà di ambienti naturali panorami e complessi monumenti del promontorio ecco qui ci troviamo nella piazzetta principale dove dove c'è sempre tanta gente il punto più affollato vediamo un po di storia di questo posto il borgo è il promontorio di una foto di alfred noce databile nel 1865 e i tigugli abitarono nell'area della val fontalbuona e nell'attuale golfo di tiguglio fino al promontorio di portofino tale popolazione di celti liguri abitanti di portofino furono già a partire del dall'ottavo secolo avanti cristo piuttosto evoluti ed editi al commercio e agli scambi commerciali via mare con altre popolazioni del mediterraneo secondo plinio invece il vecchio il borgo di portofino aveva durante l'impero romano il nome di portus delfini tra genova e il golfo di tiguglio dovuto forse per la grande popolazione di questi animali i delfini e nel golfo tigullino o secondo il seggista locale giulio miscosi per l'abilità navigare con la maestria delle coste fin dall'epoca longobarda nel territorio operavano i monaci dell'abbazia di san colombano di bobbio essi in liguria avevano sede oltre che a genova anche nel levante in zona che si erano espansi da pieve ligure fino a moneglia con varie abbazie monasteri celle eccetera e fra le quali è anche quella di comorga nei pressi di carasco e di san fruttuoso il villaggio poi venne citato in un diploma del 986 da adelaide di borgogna moglie di lotario secondo d'italia nella quale fu ufficializzata la donazione del borgo alla vicinanza abbazia colombiana di san fruttuoso un documento degli annuali di bernardo marangone risale al 1072 e cita il fallimentare assalto della flotta navale di pisa con un atto contrastato vittoriosamente dagli abitanti portofinesi nel 1175 il piccolo borgo marinaro fu sottoposto al controllo amministrativo assieme alla tigua santa margherita ligure del del libro comune di rapallo che acquistò diritti sul borgo per 70 lire genovesi per conto dei consoli rapallesi poi a partire dal 1229 divenne parte integrante della repubblica di genova così come l'intero territorio rapallese che ora è sede della podesteria divenendo quasi rifugio della marina mercantile genovese grazie al suo porto naturale nel 1409 dopo l'allontanamento da genova dire carlo sesto di francia questo ultimo vendette il borgo a firenze ma saranno poi gli stessi fiorentini a restituire in seguito portofino alla repubblica genovese la piazzetta in una fotografia di fine ottocento durante il quindicesimo secolo subì diversi passaggi di amministrazione delle più potenti famiglie feudali del tempo e nel 1425 divenne possedimento della famiglia fregoso nella persona specifica di tommaso fregoso già dove della repubblica di genova e signore di sarzana infeudando il borgo per cinque anni dal 1430 furono gli spinola i signori del feudo alla guida di francesco spinola amministrando il governo del paese per ben 15 anni e poi nel 1445 portofino fu sottratto agli spinola da giovanni antonio fieschi secondo gli storici per puro atto dimostrativo poiché fu lo stesso fieschi e riconoscere in tempi brevi il borgo ai genovesi fu ancora un discendente della famiglia fregoso pietro ad ottenere dal 1459 un breve periodo di governo del paese e l'alleanza politica e soprattutto militare tra gli adorno e fieschi con il duca di milano francesco sforza portarono nel 1513 a un vero e proprio sedio del borgo prontamente lo stato genovese con una contingente di 4000 unità riuscì a riportare la supremazia della superbia in un paese sconfiggendo tra l'altro gli uomini dell'ammiraglio andrea doria corsi in aiuto via mare al castellano filippo fieschi portofino in una fotografia anni 50 dopo la congiura dei fieschi del 1547 il territorio fu preso dallo stesso andrea doria e dal 1608 venne inserito nei territori del capiteneto di rapallo ancora un po di informazioni ecco qui siamo nella parte alta dove c'è il castello doria una veduta spettacolare dovete venirci per forza nel 1797 con la denominazione francese di napoleone bonaparte la costituita municipalità di portofino rientrò dal 2 dicembre nel dipartimento del golfo del tiguglio con capoluogo rapallo e all'interno della repubblica ligure dal 28 aprile del 1798 con i nuovi ordinamenti francesi portofino rientrò nel secondo cantone capoluogo santa margherita della giuristruzione del tiguglio e dal 1803 centro principale del secondo cantone del golfo e infine venne annesso al primo impero francese e dal 13 giugno 1805 fino al 1814 venne inserito nel dipartimento degli appennini poi nel 1815 fu inglobato nel regno di sardegna secondo le decisioni del congresso di vienna del 1814 che sottopose la municipalità di portofino nella provincia di chiavari sotto la divisione di genova ecco qua guardate che vista bellissima da qua si vede proprio tutto e qui siamo nella parte in alto precisamente dentro il castello doria dal 1859 al 1926 il territorio fu compreso dal mandamento di rapallo del circondario di chiavari sempre nella provincia di genova nel nuovo regno d'italia ecco qui ci troviamo dentro il castello doria abbiamo fatto anche un piccolo giro all'interno durante la seconda guerra mondiale nella vicina località detta olivetta furono fucilati nella notte dal 2 al 3 dicembre del 44 20 partigiani dai soldati fascisti comandati da angel tale evento è stato ricordato dagli storici come neccidio di dell'olivetta poi referendum istituzionale del 46 gli elettori portofinesi nella circostanzione circoscrizione elettorale di genova imperia la spezia savona votarono con pochissimo scarto per il mantenimento della monarchia sabauda con 50 per cento virgola due di voti contro il 49 e che invece scelse la repubblica ecco qui invece abbiamo una veduta dalla parte del mare qui siamo ancora all'interno del castello doria per arrivare qui a portofino ci sono diverse possibilità macchina o in battello macchina può essere un po un po lento e difficoltoso magari è un po più bello arrivare con un battello partendo da dare ecco da qualche altra parte e si riesce a a vedere a vedere diciamo così anche la parte più in fuori del paese ecco qui ci troviamo nella nella piazzetta principale equa troviamo anche un sacco di negozi con firme prestigiose diciamo che in questo posto c'è molta gente anche che fa shopping ci sono barche molto costose bene spero che vi sia piaciuto il video la prossima